Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi scopriremo i Dino Transbot della linea Legend of Animals E si tratta di uova robot che si trasformano in dinosauri E queste creature uniscono due elementi molto diversi tra loro Ovvero la tecnologia e la natura E le uova si trasformano con poche semplici mosse Guardate, tirate fuori la coda, poi le braccia, aprite il guscio e tirate fuori la testa Ma adesso andiamo a scoprire questi Transbot più nel dettaglio Ma... Che succede Vastatore? Ma, 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 ma è vuota È vuota sì Ma dove sono tutti? E che ne so io Vastatore? Ma com'è possibile? Credevo che il display fosse pieno Oh, grazie al cielo avete trovato l'astronave Eh? L'astronave? Sì, quella è la nostra astronave Ah, non lo sapevo Ditemi che avete trovato anche i miei compagni per favore I tuoi compagni? Sì, guardate, sono loro, li avete visti? Eh, ma, allora, non credo Aspetta, io non vedo niente Chi sarebbero questi qui? Allora, eh, questo sono io, no? Poi abbiamo Sirax, Dexter, eh, eh, Raptor E gli altri chi sono? Ah, eh, no, questi, questi lasciateli perdere E perché? Perché sono cattivi I cattivi? Quali sono i cattivi, sentiamo? Allora, i cattivi sono Tyrann, Dracon, Carnotaurus e Drake Ah, e tu sei questo, giusto? Sì, io sono Creston Sono un dino transbot e vengo dal pianeta Sbabam Io e i miei compagni siamo atterrati qui per studiare dinosauri terrestri Solo che non ricordiamo mai dove parcheggiamo l'astronave Sono giorni che la cerchiamo Ma per fortuna ora l'ho trovata In realtà l'abbiamo trovata noi Vabbè, fa lo stesso Comunque, questo significa che è arrivato il momento di tornare sul nostro pianeta Ma prima devo radunare gli altri Capisco Ma, ma, ma Un momento Cos'è questo odore? Eh, non sono stato io, giuro Ma no, è un odore che è, che è, non lo so Sa, sa di alieno Ma anche di dinosauro Ma, ma, ma anche di robot Oh no, sono loro, devo nascondermi Aspetta, loro chi? Di cosa stai? Si, 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 si è trasformato Nascondetemi, stupidi Oh, sì, certo Buongiorno, cari tirannosauri Ehm, buongiorno a voi Immagino stiate cercando il vostro amico Creston No, non ci importa niente di quello stupido triceratopo Noi vogliamo quella cosa dietro di voi Quale cosa dietro di noi? L'uovo? Ma qui non c'è nessun uovo Non è come pensato, non stiamo nascondendo nessun uovo Aia, ma perché mi hai colpito? Se non chiudi quella boccaccia ti spappolo il cervello Scusa, scusa, volevo solo essere d'aiuto Non so di cosa voi stiate parlando Ma non ci interessano le uova Vogliamo solo l'astronave dietro di voi La nostra purtroppo ha un guasto E non ci teniamo a rimanere su questo pianeta orrendo Ma prendetevela pure, a noi non interessa Siete molto gentili, grazie Allora vado a radunare gli altri Voi nel frattempo fate la guardia alla nostra astronave Se si dovessero presentare Creston, Sirax, Dexter e Raptor Mandateli via, l'astronave è tutta nostra Ehm, ok A dopo E sarà meglio per voi che al nostro ritorno l'astronave sia ancora qui Questi due non mi piacciono per niente Ah, troppo, qualcosa mi dice che questi dinotrasbotti non vanno molto d'accordo tra loro Ma siete stupidi Ah, oh, oh, sei tu Aia, vi rendete conto di quello che avete fatto? Scusa, che cosa abbiamo fatto di male? Avete ceduto la nostra preziosa astronave al nemico Oh, ma basta Cosa vuoi che me ne importi dalla vostra astronave? Volete prendervela voi? Ok Vogliono prendersela loro? Va bene Non me ne importa un accidente, fate quello che vi pare Oh, maledetti Quelli ci hanno seguiti fin qui Vogliono sempre complicarci le cose e farci i dispetti Ora intendono addirittura lasciarci senza astronave Non possiamo permetterglielo Dobbiamo ripartire subito Va bene, allora partite Ma devo prima trovare gli altri Allora va e trova gli altri Ma devo cercarli E allora cercali, cosa vuoi che ti dica? Aiutatemi per favore Porre? Sì, aiutatemi a cercare i miei compagni Abbiamo bisogno di ripartire subito Altrimenti rimarremo senza astronave E va bene, Arex Andiamo a cercare i dinotransbot buoni Ok No, oh, ehi Ma siete impazziti? Ancora? Che c'è? Non tutti insieme Non bisogna lasciare l'astronave incustodita Qualcuno deve tenerla d'occhio Quei cattivoni saranno di ritorno a breve Non voglio che ci rubino l'astronave Giusto Allora io vado a cercare i dinotransbot insieme a lui Tu va a sta'ora e fai la guardia all'astronave Cosa? Ma perché io? Perché sì, non discutere Ci vediamo dopo, ciao No, aspetta Ah, e che cavolo? Perché devo sempre svolgere i lavori più noiosi? Oh, dove si saranno cacciati? Sono tutti di colori diversi, giusto? Sì, Sirax è verde Dexter anche Creston Vabbè, Creston sono io E Raptor E grigio e azzurro Mmm, dovremmo chiedere informazioni a qualcuno Però qui non vedo nessuno Mmm, vediamo un po' Oh, lì vedo qualcosa di azzurro Vediamo, 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 vediamo Ah, ma è solo un uovo Falso allarme, non è un dinosauro Stupido, quello è un dinotransbot Ah, giusto Voi diventate delle uova Me le ho dimenticato Lui è Raptor Avanti amico mio, vieni fuori Sono Creston Oh, sei tu Meno male Aspetta Opla Ci sono quasi Un attimo, eh Ah, ho finito Ah no, manca la coda Eccomi qua Scusami, credevo fossi Tiran A proposito di lui Lo sai che vuole rubarci l'astronave? Oh no, che guaio Dobbiamo ripartire subito Non dobbiamo permetterglielo Sì, ma prima dobbiamo trovare gli altri Aspetta, credo di sapere dove trovarli Andiamo Accidenti, dobbiamo fare in fretta Eh, eh, ecco qui Oh mamma Però non è mica facile trovare due uova verdi In mezzo a tutto questo verde E voi ragazzi Le vedete le uova? Beh, riuscite a vedere le uova? Chi di voi vede le uova? Oh, ma questa non è mica una puntata di Dora la Lavatrice Ehi, si chiama Dora l'Esploratrice E poi chi hai contro Dora l'Esploratrice? Sentiamo È un bellissimo programma Sì, ma qui siamo sul canale di Arex e Vastatore E quindi? E quindi non importa a nessuno di Dora la Lavatrice Esploratrice Oh ragazzi, smettetela Lì c'è un uovo E lì invece c'è l'altro Ora siamo al completo Dobbiamo tornare subito all'astro... Ma cosa? Esploratrice Lavatrice Se non la smettete subito do una cornata sul sedere a tutti e due Oh, scusa Adesso torniamo all'astronave, subito Accidenti, che noia Io me ne sto qui a far niente mentre loro se la spassano Rieccoci qui E vai, siamo pronti per ripartire Oh wow Questa astronave sembra molto più bella della nostra Oh cavolo, e adesso che faccio? Dacci l'astronave tirannosauro No, aspettate Mi dispiace dirvelo così ma non potete prendere l'astronave Eh? E perché no? Beh, perché... Ecco, perché prima è passato uno pterosauro, no? E mentre volava ha fatto la cacca nell'astronave Ora c'è una puzza lì dentro, mamma mia Beh, puliremo No, 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 ma non conviene Perché la cacca ha colpito la stazione di controllo E ora l'astronave non si può più guidare Ma la nave non ha una stazione di controllo Ha solo un pulsante in grado di portarci dove vogliamo Vabbè, allora la cacca ha colpito il pulsante Ma ci sono altri pulsanti di riserva Allora sono passati mille pterosauri Che hanno fatto la cacca su tutti i pulsanti, ok? Ci stai nascondendo qualcosa, tirannosauro? Allora, intanto io mi chiamo Vastatore Poi... Figurati, io non nascondo proprio niente Oh cavolo! Oh no, sono arrivati prima loro Oh, per tutte le scimmie di doro all'esploratrice Ah, di nuovo loro Ma guarda un po' qui Dexter Creston Raptor Tyrann Carnotaurus Dragon Drake E Arex e Vastatore Ora abbiamo finito con l'elenco dei nomi Vi piacerebbe tornare sul vostro pianeta, eh? Beh, mi dispiace per voi Ma l'astronave è nostra No, è nostra Noi ce la meritiamo più di voi Non è vero, noi ce la meritiamo di più Siamo venuti qui per studiare i dinosauri terrestri Voi invece siete qui solo per portare guai E con questo ci vuole talento per portare guai Dateci l'astronave No, non ve la diamo Sì invece No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì Oh e basta Filate tutti nell'astronave e tornate a casa insieme Via No, aspetta Tutti dentro, non fate storie Vieni qui anche tu No Lasciaci Chiudete il becco No, aspetta, tirannosauro Tirannosauro un corno Tacete Ecco fatto Premete quel maledetto pulsante e sparite No, non le premiamo Io non condividerò il mio spazio personale con loro Che schifo Dexter mi ha toccato Cos'è questa puzza? È Creston, è ovvio Ehi, guarda che tu puzzi più di me Ora basta, mi avete rotto le uova Lo premo io il pulsante Levatevi No, fermo Ecco fatto Fate buon viaggio No, aspetta, aspetta Oh, hanno spiccato il volo Finalmente, non ne potevo più Infatti, magari durante il viaggio riusciranno a fare pace Chi lo sa Bene ragazzi Il video finisce qui Che dire, questi dinotrasbotti Sono davvero bellissimi Un po' capricciosi Ma bellissimi Mi raccomando Fateci sapere cosa ne pensate Lasciateci un commento sotto l'ultimo post di Instagram E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti